la passione per il disegno la pittura e la grafica non mi ha mai abbandonato negli anni ho sperimentato varie tecniche stilistiche di comunicazione dalle cere agli agrilici al recupero di materiali naturali come il legno spesso i miei lavori sono dedicati al mare e ai fari ho riportato su carta su tela o anche sul legno fari incontrati durante i viaggi fari inventati e anche fari invisibili raccontate dai grandi scrittori sarà per la loro posizione di torre al confine tra i due regni quello marino e quello terrestre sarà quella sagoma dritta architettonicamente elegante precisa sarà per quella luce che ritmicamente disegna un cerchio di informazione nello spazio notturno chi può veramente rimanere indifferente all'incontro con un faro altri progetti ammè cari sono i disegni dal vero con il gruppo sketch crawl roma le opere i disegni sono realizzati durante gli sketch crawl uscite di gruppo in cerca di punti interessanti della della città con dei nostri paesaggi sia all'interno che all'esterno è un altro progetto a cui tengo sono i lei che ho chiamato i lei quotidiani che sono diari di ritratti immagini evocative a volte anche ironiche a volte un po satiriche realizzate sulle pagine dei giornali nello stesso giorno dell'uscita del quotidiano grazie a tutti